Una città, quella di Rimini, ancora sconvolta. Il giorno dopo la notizia dell'arresto della maestra 61enne riminese sposata con due nipotini, il risveglio non è di certo di quelli piacevoli. Se fino a ieri storie simili che si sentivano in televisione o si leggevano sul giornale riguardavano altre città e altri contesti sociali, ora il terrore giunge fin qui. Venerdì mattina infatti i carabinieri di Rimini hanno arrestato la donna con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla minore età della vittima. Un abuso della propria professione avvenuto nella scuola materna comunale Il Delfino e che riguardava da vicino una sezione. 26 i piccoli terrorizzati da quella maestra che, come dimostrano le lunghe ore di registrazione durate un mese, spesso e volentieri quando si trovava da sola con loro, veniva colpita da raptus improvvisi. Di questi 26, in particolar modo 15 bambini, tutti maschi, erano oggetto di vessazioni, punizioni fuori luogo. Nei video si vede infatti la maestra che li prende e li sculaccia davanti a tutta la classe, piuttosto che li sbatte contro spigoli dei banchi. E c'è anche un bambino che, ripetutamente, viene preso per le braccia, sollevato e sbattuto come un tappeto. Molto probabilmente non le stava simpatico. Tutto avveniva quando, guarda caso, la maestra si trovava sola con i piccoli. I carabinieri che hanno installato le telecamere a febbraio, così come i coordinatori dell'asilo, non sono potuti intervenire prima perché lo scopo era quello di documentare la donna e i suoi maltrattamenti. Gesti estremi di violenza che già emersero nel 2010, quando la signora fu sospesa dal servizio e denunciata per abuso di mezzi di correzione. Per quella vicenda è ancora in attesa della sentenza di primo grado.